Buongiorno dottoressa, chiedo scusa siccome stasera io e mia moglie vogliamo arrangiare qualche cosa diciamo che dobbiamo festeggiare dieci anni che non lo facciamo, allora siccome ho paura che mia moglie rimani incinta volevo comprare un preservativo. Ritardante, stimolante o a doppia protezione? Con le stecche. Le stecche? E' più funzionale diciamo. Sì, inquietante.